Musica Musica Bentrovati, bentrovati al nostro appuntamento con Insieme Oltre il 2000 nel salottino culturale di Televelluno perché quest'oggi affrontiamo una tematica importante, parliamo della campagna internazionale Nastro Rosa per la prevenzione al tumore al seno e lo facciamo in compagnia di due grattivi ospiti che sono qui con noi quest'oggi. Abbiamo il dottor Spiridione Della Lucia che è medico nonché volontario, membro del consiglio direttivo della Lilt Belluno della sezione provinciale. Bentrovato dottor Della Lucia. Grazie per l'invito. Accompagnato dalla signora Annalisa Fauro che è volontaria dell'associazione ADOS, associazione donne operate al seno. Bentrovata Annalisa. Bentrovati a voi e grazie per essere qui. Cominciamo proprio questa nostra piacevole chiacchierata insieme per raccontare tutte le varie iniziative che vengono portate avanti per la prevenzione al tumore al seno. Una campagna che viene promossa appunto dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con l'ADOS Belluno. Dottore, innanzitutto cominciamo con contestualizzare un po' questa realtà. Sì, direi che è importante chiedersi perché tutto questo rosa nel mese di ottobre, questo rosa che è stato visto nei vari comuni, all'ingresso dei paesi, anche in pieno centro, nelle più grandi città, anche al teatro comunale di Belluno, perché questo rosa? È un segno, è diventato un simbolo, di un problema, un problema sociale. In buona sostanza, una donna su otto in Italia incontra, durante il percorso della sua vita, questa problematica tumorale che è il tumore a carico di un organo importante come il seno. Su questo, siccome non è una fatalità, ma è una complessa faccenda dove si mescolano ragioni della prevenzione, della diagnosi precoce, della cura e della riabilitazione, è importante spendere del tempo e si spende e si è speso tutto il mese di ottobre e da anni si fa questo e si continuerà a farlo. E si continua perché di prevenzione, insomma, bisogna sempre parlare. L'esempio ovviamente lo abbiamo tutti noi quest'oggi, il fiocchettino rosa, che è così un piccolo simbolo, un piccolo gesto, ma che ci vuole far ricordare un messaggio più importante. Allora, cominciamo proprio, dottore, col spiegare un pochino anche la prevenzione dal punto di vista medico. Quali sono i comportamenti che bisogna attuare per avere questo obiettivo, diciamo? Sì, direi che è importante anche ricordarsi che ci sono molti fattori di rischio che favoriscono la trasformazione della ghiandola seno, appunto, in tumore. E rispetto a questi rischi, alcuni rischi non sono modificabili perché prevengono da, per esempio, la familiarità, ovvero l'ereditarietà, l'età che uno ha, la conformazione del seno che uno ha. Queste cose non sono modificabili, ma altre cose, come gli stili di vita, sono assolutamente modificabili. Ed è per questo che noi, come volontari di un'associazione che si occupa di promozione della salute, e cambiamento degli stili di vita, facciamo tutto quanto è possibile per ricordare che un'adeguata alimentazione, evitare alcune sostanze come l'alcol, soprattutto, che è stato dimostrato incoraggiare, aumentare il rischio di tumore al seno, ed altre modalità, per esempio, favorire il movimento ed evitare la sedentarietà. Ecco, tutto questo protegge il seno. Altri invece stili che noi definiamo scorretti, favoriscono invece l'insorgere della patologia e quindi aumentano i casi. E quindi si ritorna appunto su questa realtà che poi viene definita come un problema sociale, se non vi è la dovuta attenzione. Ecco, ma verso che età bisogna comunque iniziare a… beh, tutta la vita si fa prevenzione, però voglio dire, la maggiore attenzione a che fascia è dedicata? Allora, noi forse siamo abituati a aspettare o a vedere che qualcuno si occupa di noi, un po' come avviene nelle auto che ti chiamano per fare le revisioni. E arrivano anche delle lettere a casa da parte di chi ti ricorda che è ora della revisione. Ecco, noi abbiamo per fortuna un territorio ben servito dai professionisti della salute, in questo caso l'Ulss numero 1 Dolomiti, ricorda alle donne di età fra i 50 e i 69 anni che il seno va sorvegliato, va indagato e va osservato, per esempio, con la mammografia, che poi si associerà all'ecografia, all'esame clinico del seno. Ma questo non significa che tutte le età della vita non debbano essere oggetto di una manutenzione ordinaria, direi, un po' come qualsiasi utensile, dalla cucina a un elettrodomestico, a un auto, a un motorino, ecco, non si può prescindere dalla manutenzione ordinaria e allora dovremmo parlare di autopalpazione mensile del seno e altri accorgimenti fin dall'età più giovane, per esempio, fino dai licei, dall'adolescenza, diciamo. E quindi mettere in pratica una serie di, appunto, buone pratiche. Buone pratiche quotidiane, oltre che fare i cosiddetti tagliandi previsti, ma anche uscire da quelle, diciamo così, da quelle periodicità che sono state oggetto dell'interessamento delle aziende sanitarie in Italia, perché quelle rispondono alla maggior resa dal punto di vista dell'investimento della salute e dei costi da reggere. Ma la donna deve poter reggere anche personalmente dei costi, per esempio, deve anche accettare di pagare volentieri un ticket, meglio se è agevolato, meglio se fare un esame gratuito, ma se questo è nell'interesse della sua salute deve sapere da quando dover iniziare anche a occuparsi di questa manutenzione della propria persona. Ecco, e l'ILT, in collaborazione con ADOS, in questo mese di ottobre, Annalisa ha messo in atto appunto una serie di iniziative che vogliono proprio, come dire, risvegliare l'attenzione anche del mediatica, comunque, della nostra società su questo problema. Una di queste iniziative, per esempio, sono questi sacchettini del pane. Ce ne vuole raccontare Annalisa? Volentieri. Proprio per sensibilizzare le donne all'ottobre rosa e sensibilizzarle per quanto sia importante la prevenzione, abbiamo pensato quest'anno, in collaborazione con l'ILT, di fare questi sacchetti per il pane che abbiamo distribuito a tutti i panifici di Belluno, di Belluno Centro, a tutti i panifici del Cadore, sia della Val Boite che della parte di Pieve e di Domegge, proprio per ricordare quanto sia importante la prevenzione. E inoltre, so che anche, per esempio, si è visto anche in città, ovviamente, i vari, per esempio, luoghi di interesse, i luoghi della città, proprio come il teatro comunale, sappiamo che è stato illuminato di rosa, ma anche, non so, i municipi, le case, insomma, dei cittadini. Un gesto significativo, appunto? Un gesto significativo e abbiamo distribuito anche in vari negozi del centro i volantini rosa, che sono stati esposti in tutte le farmacie, nastri rosa, in modo proprio sempre di ricordare che ADOS e l'ILT, Belluno, partecipano cercando di sensibilizzare ancor di più le donne per questa che è proprio l'importanza della prevenzione. Un'altra iniziativa interessante che coinvolge la cittadinanza, Annalisa, che voi praticate e proponete proprio in occasione della festa della donna in genere, di solito è una pedonata, ce le vuole raccontare, ce le vuole parlare? Sì, da ben 13 anni viene proposta la pedonata Il vento tra i capelli, che si svolge a Belluno nella prima domenica di ottobre, circa la domenica intorno all'8 marzo. Questa pedonata gode di una partecipazione numerosissima, è organizzata da ADOS e dal Comitato delle otto associazioni di prevenzione salute donna e lo scopo della pedonata, oltre a quello di trovare riunite, senza esagerazione, migliaia di donne che corrono per Belluno, lo scopo è quello di raccogliere una raccolta fondi che poi vengono destinati per offrire delle strumentazioni all'ospedale, all'ASLI in genere. In modo da incentivare ancora più la ricerca e fornire un servizio che possa essere. Penso che comunque anche l'unione, il far parte di un gruppo che condivide un obiettivo per dia forza alla donna che magari si trova a dover affrontare un percorso difficile. Sicuramente, l'unione e la condivisione, vorrei dire, sono estremamente importanti. Tanto che ADOS ha un ambulatorio di nifodrenaggio per le donne operate che è molto frequentato e la cosa importante della frequentazione di questo ambulatorio è non solo che le donne traggono dei benefici fisici per la complicazione, diciamo così, della loro malattia, ma anche proprio perché nelle donne c'è un momento di condivisione, di partecipazione, quasi anche di alleggerimento psicologico, nel senso che sono tutte donne, tutte che hanno compiuto lo stesso percorso e che si trovano a parlare non solo di malattia, ma un po' di tutto, diciamo, si beve il caffè, è un momento così che diventa quasi conviviale. Per affrontare appunto questo momento, diciamo, questa situazione. Dottore, lei parlava poco fa di una buona pratica che è consigliata appunto a tutte le donne, e le ragazze, insomma, per controllare così ecco la salute di quest'organo. Parlava dell'autopalpazione. Come si può fare, secondo lei, quali sono alcune delle modalità attraverso le quali si può anche insegnare alle giovani ragazze a mettere in pratica questa attività? Allora, io devo ricordare le mie origini. Io sono entrato come volontario, medico volontario, nell'88 in oncologia a Belluno, e in quel periodo avevo una borsa di studio proprio che mi era stata data dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e mi occupavo anche di questo. Allora si facevano dei progetti proprio di intervento nei licei, negli ultimi due anni, nelle scuole superiori, di ogni ordine e grado per certi versi, proprio per sensibilizzare a questo tipo di modalità. Non ne sento più sinceramente parlare da tempo. Ho scoperto con mio piacere che ci sono dei tutorial molto interessanti. Adesso le ragazze usano i tutorial, per esempio, per il make-up, che non passa giorno che ci sia un tutorial nuovo, no? Ecco, c'è chi addirittura ci ha fatto la fortuna su questo. Ecco, noi vorremmo anche sensibilizzare al fatto che la femminilità che passa anche attraverso il seno, e se vogliamo anche il bel seno, passa anche attraverso ricordare e avere la consapevolezza che il seno è un organo ed è un organo bersaglio di una malattia prevedibile e una malattia sociale, solo perché sei donna. Fra parentesi, il tumore al seno capita in misura molto piccola anche ai maschi, quindi è anche una problematica della mammella maschile. Ecco, quindi i maschi non sono fuori da questo tipo di prevenzione, anzi per certi versi devono drizzare le orecchie perché non esiste uno screening maschile per questo. Quindi è importante che ci sia un insegnamento, che ci sia una cultura della salute, una cultura della prevenzione che proprio l'ILT e ADOS con queste varie iniziative cercano di portare avanti. L'atteggiamento che lei nella sua esperienza, dottore, ha riscontrato come l'ILT, Belluno come membro del Consiglio Direttivo, qual è nel senso, tante volte magari si ha paura anche di affrontare queste tematiche. Sì, io direi che vale la pena che legga tre piccoli contributi. Paola, 54 anni, un insegnante, testualmente mi dice questo. Come odio quelle lettere, allude a quelle mandate dall'ULT per lo screening, ma sono le uniche visite che faccio e per fortuna arrivano. Io non prenoto una visita neanche a morire. sintomatico del fatto che c'è un'ambivalenza, almeno in questo, no? Vedo queste lettere, vorrei nascondermi come fa lo struzzo, vorrei nascondere la testa, poi però per fortuna aderisco. E noi sappiamo che l'adesione agli screening, per esempio con l'invito alla mammografia, ma potremmo dire anche per il colon retto e per altre patologie, il collo dell'utero, per esempio, il pap test, è molto alta, ma si può fare di più, si può fare sempre meglio. I volontari, i nostri volontari, per anni hanno accompagnato alla lettera che l'azienda sanitaria inviava alle donne interessate, una telefonata che anticipava l'arrivo della lettera, perché la lettera non venisse cestinata, per esempio, con un pregiudizio, perché la lettera venisse attesa e poi ci fosse l'adesione. Quindi bisogna immaginare che noi non vorremmo vedere il male che c'è dietro, esorcizzarlo vorremmo, ma il problema c'è, a questo punto aprire gli occhi è la dimensione migliore. Prendermi coscienza, quindi. Esatto. Un'altra cosa importante, una donna mi diceva poi proprio ieri, a mia figlia non hanno fatto la mammografia perché era stata ritenuta troppo giovane, all'epoca a Milano questa donna aveva 34 anni, poi conclude la donna, poi hanno trovato il tumore con cui mia figlia ha combattuto a 8 anni e poi il suo dire si è fermato alludendo al fatto che non aveva superato questa prova. E poi un'altra signora, mi ricordo, che mi fa in corridoio. Si ricorda, dottore, quando ci siamo conosciuti avevo solo 24 anni, adesso sto bene e da quella volta che mi hanno trovato il tumore al seno sono passati 28 anni. Con questo si dice che non c'è un'età definita, obbligata, in cui capitano le cose. C'è un'età in cui ne capitano con più prevedibilità e con più frequenza. Si parla di incidenza in termine medico epidemiologico. Allude invece al fatto che non possiamo non pensarci noi per primi e collaborare rispetto a quanti poi ci aiutano a interpretare al meglio il nostro bisogno, il nostro diritto, ma anche il dovere di restare sani. Ecco, e qui ritorna questo impegno e anche l'obiettivo che con questa nostra piacevole conversazione oggi abbiamo cercato di trasmettere ai nostri telespettatori quindi un'attenzione, una cura a quella che è la propria salute. Dottore vuole rivolgere un appello a chi ci ascolta in questo momento che ha condiviso con noi questa piacevole chiacchierata sul messaggio della Lilt. Concludiamo così? Direi vogliamoci bene, vogliamoci più bene, dobbiamo farlo, possiamo farlo. Più che un dovere è un regalo che ci possiamo fare. A noi stessi. E analisa anche lei un messaggio per tutte le donne all'ascolto. Io da donna a donna dico di partecipare allo screening, di aderire il più possibile e anche nell'età più giovani che abbiamo visto avere un'incidenza abbastanza elevata di questo tipo di patologia, porre attenzione a noi stesse. Come diceva il dottor Della Lucia, volersi bene, stare attente proprio al nostro benessere, al nostro fisico, a volerci bene. A volerci bene, che questa è la cosa più importante. Io ringrazio tanto i nostri ospiti per essere stati qui con noi quest'oggi negli studi di Telebelluno. Ovviamente la tematica è una tematica vastissima. Noi abbiamo dato solo alcune pillole per affrontare questo tema, ma che ritenevamo importante in occasione di questo mese in particolare proprio dedicato alla prevenzione, ma poi prevenzione tutto l'anno. Quindi per maggiori curiosità o comunque informazioni si può contattare ovviamente le varie e le rispettive sedi della LILTA di Belluno, dell'ADOS di Belluno, dove i volontari sono a disposizione per dare qualsiasi informazione, insomma supportare l'attività e la persona appunto che si rivolge. A tutti quanti voi ovviamente un grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.